Domenica 3 dicembre a Faenza in via Da Vinci inaugura la sede della piccola Betremme, Emporio Cucina Solidale e c'è anche un gesto simbolico importante perché alle nostre spalle c'è la Casa dell'Angelo donato dalla famiglia Calderoni. Come è nata questa idea? Dunque, questo qui noi abbiamo uno zio, un zio che si chiama Angelo Rava, Angelo Rava che viene da San Giovannino, ha sempre fatto l'agricoltore e prima della sua morte ci aveva dato in carico di fare questa donazione in favore dei poveri e per una somma di circa 25.000 euro. Ci siamo a sua morte, ci siamo subito attivati, abbiamo cercato varie soluzioni per donare questa cifra e alla fine abbiamo deciso di darla alla piccola Betremme perché è un Emporio solidale e si occupa appunto di gestire e di dare da mangiare ai poveri della città. Abbiamo ricercato varie soluzioni fino ad arrivare appunto a individuare questa casa in legno perché ci è sembrato questa che rappresenta di più lo spirito, la solidarietà, il volere stare bene, la natura e abbiamo appunto fatto, scelto questa, ci è voluto un po' di tempo per riuscire anche a trovare qualcosa da stare nel bacio ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo poi intitolato questa casa la Casa dell'Angelo, visto che lo zio si chiamava Angelo e questo l'abbiamo fatto immaginando che lui sia finito in cielo fra gli angeli e ci abbia guidato in questa donazione. La donazione è fatta in modo che questo rimanga a disposizione della comunità quindi io e i miei fratelli siamo veramente orgogliosi di donare questo alla piccola Betremme. È giunto quindi il tanto momento atteso dell'inaugurazione, che effetto fa per la piccola Betremme? Beh, questo per noi è un grande momento perché lo stavamo aspettando da tanto tempo, abbiamo avuto anche dei momenti, è passato degli attimi di tensione e di sconforto perché era un passo veramente importante, oggi grazie all'aiuto di tanti amici e alla partecipazione di tanti, compresi tutti i cittadini, siamo riusciti a realizzare questo sogno che dà la possibilità di riuscire a servire in questo momento 17.000 pasti negli ultimi 5 mesi e 2.900 persone al mese con assistenza di Emporio, per cui un grande passo. Ha detto tanti amici, c'è chi addirittura ha donato una casetta. Sì, abbiamo i fratelli Calderoni che hanno deciso tramite un lascito di un loro zio di abbracciare la nostra impresa e ci hanno fatto realizzare un emporio, abbiamo il presidente di Arca che ci stanno supportando da mesi facendoci donazioni importantissime di cibo perché noi facciamo fuori una tonnellata circa 6 alla settimana di cibo, per cui abbiamo bisogno di un supporto, di una forza di fuoco importante perché altrimenti con le nostre forze non riusciremo sicuramente. Una bella giornata oggi a tutti gli effetti quando c'è un'inaugurazione di questo tipo, quando ci sono donazioni che supportano questo momento. Una giornata bellissima, la piccola Betlemme trova la sede definitiva. Dopo anni di transizione tra spazi diversi, dopo una precarietà logistica, la piccola Betlemme è cresciuta, è cresciuta molto e grazie a questa bella collaborazione pubblico-privato siamo riusciti a trasformare un esperimento in un punto di riferimento, un anello del sistema del welfare della nostra città. E volevo concludere, volevo ringraziare i miei fratelli che hanno condiviso questo progetto e siamo stati, siamo trovati d'accordo appunto per portare avanti questa cosa e li ringrazio ovviamente. Poi voglio ringraziare la persona di Emanuela Cantagalli che mi aiuta sempre nell'organizzazione degli eventi, Emanuela Cantagalli del nostro gruppo BNI e del nostro gruppo BNI Maioliche.